Ehi Hank, stavo pensando ragazzo, quando mi hai inseguito su quei palazzi con gli elicotteri e tutto il resto. Sì, beh, senti, mi spiace per quello... No, dicevo, è lampante che sai il fatto tuo con i poteri di fumo che ti ho passato. Sì, beh, ho bisogno anche di un'altra cosa. Sei riuscito a fuggire dalla sua torre. Come hai superato quelle barriere elettrificate? C'è un trasformatore su un tetto dalla parte opposta. Devi disattivarlo, ma non sarà una passeggiata. Ha fatto blindare qualcosa e ci ha messo di guardia mezzo di Uppi. Beh, ma forse se collaboriamo... Ehi, la mia specialità è evadere da quei posti, non ficcarmi ci dentro. Abbiamo tutti un buon motivo per cercare Augustine. Ha rubato qualcosa a entrambi. Ma dobbiamo agire secondo le nostre regole, non le sue. Attiriamola fuori da quella fortezza. Solo così avremo una possibilità. Qualche idea? Conosci i due ragazzi che erano con me sul trasporto blindato? Fetch e Eugene. Credo. Comunque, il D.O.P. li apprezzi. Cosa? Notizia fresca. Ecco cos'era il casino lì prima. Avrà deciso di ammanettarli per compensare la mia buona. Li ha fatti portare sulla grossa piattaforma di cemento che il D.O.P. ha costruito fra le tue isole. E tu vorresti cosa? Salvarli? E come la vedo io. Noi andiamo sull'isola, liberiamo quei due e scateniamo un bel casino. Augustine dovrà per forza correre laggiù. E contro noi quattro non ha la minima speranza. Ok, c'è un molo di fronte a quella piattaforma. Andiamoci ridi dopo il tramonto. Ci vediamo lì. Reggie! Eugene a Fetch! Sì, ho saputo. Anche io abbiamo elaborato un piano per attaccare l'isola, fare fuori i D.O.P. di guardia e... Delsin, ci ho pensato su. Negli ultimi tempi sono già morte troppe persone. Persone normali. Normale? Sento cielo, Reggie, non dobbiamo tornarti, no? Non me la sento di causare altre vittime solo per aiutarti a liberare due bioterroristi. Reggie. Io sono un poliziotto. Queste cose le devo impedire. Senti, chiamami quando sarà finita, così torneremo a Solmondei. E Delsin, occhi aperti, Lulank. Non mi fido di lui. Reggie, ma che ci fai qui? Senti, quelle sono persone e hanno bisogno non bioterroristi o conduit. Persone. Grazie. E grazie di essere qui. Che ci fa qui lo sbirro? È mio fratello, Kay, è venuto per me. Cosa hai in mente? Ho dato un'occhiata. Il punto migliore è il molo sul retro. Da meno nell'occhio. Voi potreste sfruttare il vostro dono del fumo e attirarli sul davanti. Io entro con la barca durante il diversivo. Perché vai prima tu? Perché sono un poliziotto e se mi procura una barca è legale. Se ne rubi una tu, ti sbatto col culo al fresco. Oh, fa sul serio. Fidati. Ah, ci vediamo dentro allora. Giusto? Sì, ci vediamo dentro. Occhi aperti, ok? Ascolta, se andiamo lì e iniziamo a fare casino, Augustin verrà ricorsa. Andiamo, so come arrivare all'isola senza essere visto. Cos'è successo? Ho visto Augustin ucciderti. Tu hai visto che mi catturava tutto? C'è una bella differenza. Non dovevi portare il prezio, tu conosco. Uffo, ha detto la stessa cosa di te. Eccola. Se ci infiliamo qui dovremmo sbucare nel bel mezzo di quell'affare. Ehi, ne sei sicuro? Quando ero chiuso nella torre ne ho viste di cose. Un'altra cosa. Laggiù c'è anche uno di quei droni, quei cosi da cui prendi i poteri. Tu come lo sai? Non sarebbe male assorbire un'altra abilità prima di incontrare Augustin. Andiamo? Ok, ecco il piano. Distruggiamo quei pilastri, loro sentono il baccano e scendono a vedere che succede. A quel punto, li facciamo fuori e arriva Augustin. Sarà una cosa veloce. Ci metto davvero... Ah ah, che ti dicevo? Scusa, non mi fidavo di te. Viscio come l'odio! Non ci credo, li stiamo rompendo. Risparmiane per i DUP. 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 E questo è solo l'inizio! E questo è solo l'inizio! Uniti nessuno ci fermerà! Dovremmo mettercela tutta per fermare Augustine! Questo è per Cardo Keri, bastardo! E questo è solo l'inizio! Pronto per un nuovo potere? Senti, come facevi a... Svelto! Sarà qui da un momento all'altro! Corri qui! Vediamo che poterio ti è! Che c'è? Non ti fidi più di me? Non lo so, qualcosa non va. È meglio se chiamo Reggie. Harry! Non mi hai delusa stavolta? Ho fatto come volevi, ora fai come promesso! Figlio di puttana, mi fidavo di te! Mai fidarsi di un criminale? Ti dovrebbero andare giuste giuste, ma... Non si sa mai! Anch'io mio! Quando mio fratello scoprirà cosa hai fatto... Vedrai che ti farà! Mi farà cosa? Ma hai mancato d'un soffio! Da, così impari a spararmi addosso con gli angeli! Dai, alzati! Vieni qui che ti tolgo le manette! Di qua! Non ti ho fatto vedere! Reggie, è ancora viva! Sta per tornare! E io non posso usare i miei poteri con questa merda di cemento addosso! La diavola è sui sessi! Era una trappola! Tank ci ha tirati per farci uccidere da Augustin! Te l'ho detto! No, non capisco perché ci abbia fatto questo! È una merda, e le merde fanno merdate! Avrai anche dei superpoteri, ma non ti farebbe male ascoltare i conti! Consigli di tuo fratello, di tanto in tanto! Presto, non posso affrontare Augustin così! Ok, sali quassù! Ci provo! Ma che diavolo? Penso io! Scusa, non ho più granate! L'ho fatto alla vecchia maniera! Cioè? Eh, appoggia le mani qui! Fermo così! Ecco fatto! Non sapevo che era un traditore! Ok, avevi ragione! Se ti avessi ascoltato ora non saremmo qui! Eh, visto che siamo qui possiamo anche salvare quei... Cazzo! Come ci tirerete fuori? Dovremmo sparare a quei cosi! Ecco un classico piano da superpoliziato! Oh, merda! Attenti! Basta! Lascia stare mio fratello, brutta scronza! Oh, mio Dio! Reggie! Merda! Reggie! Merda, puttana! Delsen! Delsen! Guardami! Devi lasciarmi! No, no, ce la faccio, ce la faccio! Ascoltami! Non che devi beccare questo schifo! Cazzo! Sono orgoglioso di te! No! Non sono sempre stato! No! Reggie, no! Ti voglio calci! No! No! Reggie, no! Sì! Hai torturato la mia gente! Sì! Maledetto! L'hai ucciso! Sì! 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 O Cincinnati! Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!